Come salvare questi youtuber con milioni di iscritti che sono disperati? 100, 140, 130 di media Milioni Milioni di visualizzazioni al mese Sì, 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 precisiamo Milioni al mese, sì, scusate, è per scontato Sono soldi Beh, ma guarda che a raccontare sfighe prima o poi ci becchi Eh sì, certo YouTube prima o poi dovrà metterci T'ho sputato, t'ho pulito il computer YouTube dovrà metterci una pezza Sì, ma lo farà sicuramente A livello di guadagni siamo pure saliti perché l'RPM è salito Sì A parità di visualizzazioni Poi c'è anche da dire che non pubblichiamo shorts È vero Non pubblichiamo per niente shorts Però abbiamo testato all'inizio e abbiamo capito subito che non era il futuro di YouTube, diciamo, di shorts Poi chissà Quindi sta lasciando sul tavolo un sacco di soldi Ma perché c'hanno sempre la bip bip di legno Allora qua E no, la gente se vede i contenuti in altre lingue pensa che io voglio fare soldi E no Porto proprio il tuo contenuto e lo porto in Italia Lo traduco, lo sistemo, faccio degli editing, eccetera E ti do tot percentuale E tu non devi produrre contenuti E poi fondamentali consigli di Francesco Polesel per i più grandi youtuber d'Italia Che sono lì che aspettano questo video da mesi C'è gli acchi che righe rosi che a cazzo Non ho ancora parlato Ma il problema è che c'è tanta gente che non cambierà mai il proprio contenuto Proprio per orgoglio Ed è uno dei problemi degli influencer In questo video parleremo di algoritmo Di come sono scese le visualizzazioni su YouTube Di come sta cambiando YouTube E di come sta impattando su determinati player che stanno lavorando su YouTube Siamo io e Francesco E abbiamo come ospite Roberto Bonanno L'algoritmo di YouTube nell'ultimo anno e mezzo Soprattutto nell'ultimo anno è cambiato tantissimo Soprattutto con l'inserimento degli shorts E tanti influencer la stanno risentendo Ne stanno risentendo da questa cosa Gli shorts prendono sempre più piede Perché YouTube comunque vuole tenersi al passo E cercare comunque di continuare a far concorrenza A piattaforme come TikTok Soprattutto come Instagram E quindi gli shorts però dall'altra parte Stanno facendo un grande danno agli YouTuber Tra l'altro soprattutto in America Ci sono un sacco di YouTubers che stanno facendo il Non so se fake o meno Il ritiro da YouTube La biura dagli shorts O da YouTube Da YouTube proprio Ci sono tanti YouTubers americani Che dicono che si ritirano proprio da YouTube Perché non ci stanno Tipo un boicottaggio di massa Sì 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 Ma stiamo sui italiani che è più sugoso Noi abbiamo fatto una ricerca grazie a Bonfrancesco Francesco oggi è un uomo di numeri Abbiamo YouTuber italiani Che erano sempre stati delle super mega potenze E che oggi stanno a 2-3 milioni di views Abbiamo visto anche contenuti In cui lamentano proprio questa problematica In tanti E abbiamo notato che c'è un calo decrescente C'è uno Yakidale da 3 milioni di views Che era abituato a farne 11 Un ciccio gamer che è sceso anche lui Da decine a 3-4 milioni Gente che ha perso 20-30% Solamente da gennaio a febbraio 2024 C'è una mazzata Qualcuno ha perso anche di più Anche il 40% negli ultimi 3 mesi 4 mesi Davvero tanto Ok quindi O loro hanno iniziato a fare video di merda O che non è probabile Perché sono in troppo A aver subito lo stesso andamento Quindi qualcuno Probabilmente li avrà fatti anche buoni Oppure qualcosa è cambiato Sicuramente qualcosa è cambiato direi Poi la seconda La prima opzione può essere Però non abbiamo analizzato così In profondo i singoli video Ma di solito no Abbiamo analizzato il top di YouTube Italia Ragazzi Hanno ottenuto tutti questi anni È molto difficile Sicuramente la flessione c'è stata Anche dall'avvento degli shorts Come diceva il buon Amin È dal calo dell'attenzione delle persone Proprio Non è solamente L'algoritmo di YouTube Ma proprio le abitudini delle persone Ormai guardano tutti i shorts Guardano tutti i contenuti corti Come su TikTok Come su Instagram Ma le altre piattaforme Hanno anche innovato Mettendo contenuti lunghi Formato shorts Ad esempio su TikTok Non so se avete visto Puoi caricare Contenuti con 6, 7, 10, 15 minuti di video In formato verticale Quindi puoi fare contenuti Che la gente guarda tanto Ma in formato verticale La flessione che abbiamo visto maggiore Sono sui contenuti Di canali face Quindi influencer Youtuber Come vogliamo definirli Quei tradizionali Sì sì Quei tradizionali Hanno avuto una flessione maggiore Rispetto agli altri canali Comunque i faceless Che hanno avuto una flessione Molto molto minore Tanti non hanno nemmeno subito Questa flessione E proprio questo è un motivo Per cui andremo a parlare Anche delle problematiche attuali Che stanno subendo Tanti YouTuber Barra influencer E poi fondamentali Consigli di Francesco Polesel Per i più grandi YouTuber d'Italia Che sono lì Che aspettano questo video da mesi C'è i biachi Che righe rosi Che a cazzo Consigli di Polesel Non è ancora parlato Non sei ancora esposto Sul fattore Sono tutti lì come Tipo fumata bianca Polesel Me contro te Che non dormono più di notte Stanno aspettando Il commento a freddo qua C'è una questione Molto importante Perché YouTube Percorre dietro a TikTok Chi sta facendo un culo Così a YouTube Perché ha preso Così tante Fette di mercato Che con i loro Piccoli poteri forti Sta convincendo Il congresso americano A bannare chi TikTok Sì è vero E ha abituato Il proprio pubblico Ai contenuti schifosi Corti Insignificanti Di una qualità bassissima Fatti per la pancia Zero qualità Zero profondità Sì 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 E il problema è che se tu abiti questo pubblico Innanzitutto attiri altro pubblico così Che è un pubblicaccio Sempre più giovane Sempre meno attento Con la storia dell'attenzione di 2-3 secondi Sì E a volte anche meno È calata Abituata che col ditino Certo Fa scaricare la prossima Scarica di dopamina E quindi la gente Che pubblica Che vive sulla piattaforma Vive in un imbarazzo totale Nel senso Certo di rimbarazzo e scarica Nelle due frasi consecutive Potrebbe essere frainteso Ma detto questo Quindi cosa faccio Dico Pubblico i short E non li guarda nessuno Guardo cosa funziona Ed è un contenuto Pessimo di qualità Ma che Mirato alle pance Di questo pubblico Sempre più giovane E sempre meno di qualità Allo stesso tempo La piattaforma è piena Di persone Che hanno cambiato Le proprie abitudini Però YouTube Non paga i short Esatto Esatto Li paga pochissimo Quindi ha pestato la piattaforma Non paga Nonostante aveva annunciato Fondi e fondi short Evolution short Ha fatto letteralmente ridere I content creator Vedono un ribasso enorme Dei video tradizionali Tra virgolette orizzontali E praticamente Sono in una situazione Abbastanza tesa Sì è un problema Il fatto che gli shorts Non creino revenue Perché Gli shorts fanno views Se gli shorts Iniziano a fare views I video normali Non fanno views Gli influencer Cioè i creators italiani Che sono face Guadagnano principalmente Dalle views Ma se non guadagnano Dalle views Non più È un problema Il problema non è solo quello Il problema è che Loro guadagno anche tanto Degli sponsor Ma se tu nello sponsor Ti fai vedere un canale Che era abituato A fare mezzo milione Settecento Un milione di views a video Inizia a farti la metà Lo sponsor ti paga di meno Ti paga di meno Certamente Oppure va su TikTok Ti paga meno Certo Capito Questo è il concetto Cerca nuove tendenze Certamente Quale è il problema degli influencer È che chiaramente Il loro guadagno Come dimostrano anche Persone che ci aiutano molto Come molteni Io potrei già dirvelo Avendo fatto 12 anni Il manager di influencer Ma non posso liberare I dati ai miei ragazzi Molteni ha pubblicato Un video in cui fa vedere Appunto che di un milione Di fatturato Seicentomila viene dal sponsor Da sponsor Ma se lui avesse Un quarto delle visualizzazioni Per video Lo sponsor probabilmente Direbbe ok Invece in un totale Di seicentomila Quest'anno Avevano un totale Di duecentomila Capisci che c'è un bel calo È sempre un problema Di romanticismo e filosofia Dall'altra parte Però c'è anche da dire Che sì L'algoritmo è cambiato Stare facendo ricevere Meno visualizzazioni Ai canali Però dall'altra parte L'RPM è aumentato L'RPM che ha la revenue Per mille Quello che il creator Guadagna ogni mille Visualizzazioni sotto pubblicità I consigli del dottor Amin Dai un momento Vai consigli Come salvare questi youtuber Con milioni di iscritti Che sono disperati O aumenti drasticamente La qualità Dei tuoi contenuti E trovi comunque Dei contenuti Che poi è difficile Da applicare Perché dipende poi Dalla nicchia In cui vai a lavorare Conto è la nicchia gaming Che è una nicchia Molto larga Si possono fare diverse Tipologie di contenuti Nella nicchia gaming Lì devi aumentare Drasticamente la qualità Dei tuoi contenuti E trovare dei nuovi format Che poi possono Generarti più visualizzazioni Ma se tu guadagni Solo dalle visualizzazioni E magari dagli sponsor E comunque Abbiamo contro youtube Tra l'altra parte Devi iniziare a creare Proprio nuovi contenuti O crei nuovi contenuti O inizi a monetizzare Il tuo pubblico Ma se tu vuoi creare Nuovi contenuti Che siano diversi Quindi vuoi andare a muoverti Su un'altra nicchia Non puoi muoverti Su un'altra nicchia Con la tua faccia Perché la tua faccia Ormai è È bredizzata Sulla nicchia di riferimento Con il quale stai creando contenuti Quindi Devi creare altri contenuti O usi la faccia di qualcun altro Oppure non usi proprio la faccia Credi i canali faceless Senza nessun conflitto etico In questa risposta Zero conflitto etico Non hai nessun conflitto di interessi Assolutamente Benissimo Assolutamente Qui il contenuto di valore va sempre Prima o poi comunque YouTube in teoria Ci dicevano prima dall'alto Qualcuno che non si può nominare L'algoritmo lo sistemerà Prima o poi YouTube Non si può permettere Di perdere La strada principale crieto E però adesso Francesco ci fa un po' di nomi Un po' di numeri Perché dobbiamo proprio contestualizzare Stiamo parlando del top Di YouTube Italia I maggiori esponenti Del mondo YouTube Italia Abbiamo visto che Tutti hanno subito Una bella flessione Compreso Molteni Lui fa video di altissima qualità Ormai nell'ultimo anno È arrivato a fare dei numeri Anche strabilianti Come abbiamo parlato prima Quasi un milione di euro di fatturato Tramite YouTube È sponsor ovviamente Facendo meno video Dell'anno precedente 33 video Alzando la qualità E facendo progetti incredibili Lui ha subito Un 30% di flessione Comunque vediamo Che la sua media Era sui 4,8 5,5 al mese Milioni Adesso è passato a 3 milioni Sì Yakidale è simile Però Yakidale Cosa ha fatto? Ha fatto quella cosa Il canale Techdale Che Amin ha detto prima Io metto la faccia Faccio tecnologia Faccio un canale a parte Cavalcando i trend Con le visualizzazioni Di Apple La nuova Tesla Cybertruck E tutte le novità tecnologiche Su Techdale In crescita Sì Era passata più grande Comunque la presa Shosha Che abbiamo visto Mike Shosha Mike Shosha Game player Forse il più grande Game player d'Italia È passata da una media Di 20 milioni A 11 E beh Caspita Infatti lui ha fatto pubblicamente Una dichiarazione in video In cui si lamentava Della situazione Perché lui dice Io faccio sempre le stesse cose Che non è bene né male Però è possibile Passare a 20 a 11 Capisco Passare a 20 a 19 A 18 Quindi YouTube ha fatto Un pastrocchio Sì per queste tipologie Di influencer Sì E piccole Porca toy No piccole variazioni Stavo finendo la frase Che hanno comportato Un grande impatto Sul loro contenuto Sulla visualizzazione Sulla viralità che avevano In compenso Voci di Corridorio Ci dicono che Per vari motivi Gli RPM Si sono alzati Quindi in teoria I ragazzi Almeno dei guadagni A parità di views Potrebbero fare più soldi Potrebbero fare più soldi Ma l'abbiamo visto anche noi Ma l'abbiamo visto anche noi Sono sponsor Che se dicevi tu prima Se faceva un milione di views In media Ma ne fa 200 Capisci bene Che non ti pago più Al fine ti sto pagando Per il traffico Come advertising Compro delle visualizzazioni Per dei soldi Esatto E se tu ne fai molte meno Guadagni meno Ma poi l'abbiamo visto Anche noi A febbraio C'è stato il triplo Marzo è risceso adesso Ma siamo ancora Al doppio dell'RPM Dell'anno scorso Dell'anno precedente Questo può anche essere Anche me contro te ad esempio Hanno avuto un calo Beh Nonostante siano dei colossi Di numeri Di numeri E loro sono passati dai 100, 140, 130 Di media Milioni 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 Sì sì Milioni al mese Sì scusate L'ho scontato Sono soldi Adesso siamo a febbraio E ne hanno fatti 60 E caspita Anche tu prego a console In gennaio ne hanno fatti 75 Quindi sono molto in calo Dell'Ajul Stabello pubblica molto meno Quindi non subisce queste flessioni Perché sono flessioni Dedite al contenuto Quanto pubblica Non va letto Oppure non ha subito Grande problematica Semplicemente perché Ha un piccolo calo Poca roba Peccato Scherzo Allora Ha uno 0,5% No vabbè Vuol dire che la qualità paga È opporto Quella fascia di pubblico A parte che Ha pubblico molto più grande E consapevole anche Lui però Cavalca molto A un periodo storico In cui la gente ha fame Di notizie Di geopolitica Perché ragazzi C'è il mondo che va in merda Ogni giorno di più E questa gente Che vive della disgrazia Del mondo Poi lui è molto bravo Perché Gli anticipa i trend Cioè anche le problematiche geopolitiche Se vedi Sulla Russia Ne aveva parlato sei mesi prima Sulla guerra Non so si può dire L'ultima guerra che c'è stata Ne aveva parlato sei mesi prima Quindi è andata anche bene questa cosa Un precursore delle cose Quindi trae avvantaggio Da quanto c'è 17 18 18 19 Milioni Un centone tra tutti i canali Facevano Diciamo che il settore gaming Ora sono passati a 10 Ragazzi vuol dire scalare Di diverse categorie Di importanza Agli occhi Dei investitori Con 100 milioni Sei Un top Quasi mondo Sì con 10 Con 10 sei uno dei tanti Anche in Italia sono dei tanti Quindi è una bella mazzata Però se tanti sono calati Più o meno uguale Forse aveva ragione La persona che non si può nominare Ma che ne sa tanto YouTube prima o poi dovrà metterci T'ho sputato T'ho pulito il computer YouTube dovrà metterci una pezza Sì ma lo farà sicuramente Certamente I consigli del Polesella Grandi YouTuber Dovranno andare a fare delle variazioni Sicuramente concentrarsi sul contenuto Quindi andare a studiare A capire cosa può piacere E cosa può interessare alle persone Per essere meno vulnerabile Seconda opzione Aprire altri canali Lavorare con altri canali Mettendo facce Frontman La tua faccia O direttamente Faceless Anche qua non ho conflitti di interesse Assolutamente Non ho conflitti di interesse Però comunque col faceless Si può andare a scalare Ad esempio Noi non abbiamo subito queste variazioni Non abbiamo subito Non abbiamo subito niente Anzi A livello di guadagni Siamo pure saliti Perché l'RPM è salito A parità di visualizzazioni Poi c'è anche da dire Che non pubblichiamo shorts Non pubblichiamo per niente shorts Però abbiamo testato all'inizio Abbiamo capito subito Che non era il futuro di YouTube Diciamo gli shorts Poi chissà Magari Susan Il nuovo CEO Sta guardando questo video E mi smentirà Anche lui guarda Paul Ezel Aspettano per capire Cosa va a dire Quest'anno anche loro Anche Putin è sincronizzato Perché essendo parlare di guerra Cosa stava dicendo Paul Ezel Eh perché Dicevano che vuole fare Un canale geopolitico anche lui E quindi non vogliono Comunque sicuramente Lavorando col faceless Non hai di queste flessioni Perché puoi lavorare Puoi variare su tanti trend Tante nicchie Tanti contenuti Quindi magari hai una flessione Negativa da una parte Ma dall'altra Ce n'è positiva E quindi puoi variare molto A diversi YouTuber Si sono tutelati Anche con altre piattaforme Come Telegram Io so che ragazzi Come Yaki Come i ProdiGeek Ma anche ragazzi Del mondo della tecnologia Che fanno magari 100-150 mila views al mese Tirano su Certo Anche diverse migliaia di euro Solo Con gli scontri Ecco Che consigli daresti Lato imprenditoriale Aspetta Torniamo al discorso Della puntata precedente Chi fa un brand stabile Chi fa qualcosa di stabile Continua ad andare avanti Nonostante le flessioni E chi non lo ha fatto Esatto Chi ha solamente vinto Da quattro views Che faceva Ad oggi magari si ritrova Col culo per terra Esatto Infatti qua chiedo a Roberto Che consigli daresti Lato imprenditoriale A questi influencer Lato imprenditoriale Guarda L'ha anticipato Francesco Giustamente Non pensavo Volessi chiedere questo No ma è quello Corretta Prima cosa è che Qualsiasi azienda Non può avere Il proprio core business Che dipende Da fattori esterni Ok Quindi se tutto il tuo business È su YouTube C'è un errore Quindi apri Telegram Apri TikTok Ogni social deve essere tuo Poi oggi È un mondo In cui Uno che fa 10-20-30 mila euro al mese E non pubblica In automatico Tutti i suoi contenuti In tutte le lingue Traducendoli in temporale Con l'intelligenza artificiale Per me è un demente Sto lasciando molto sul tavolo Sì io metto Due o tre ragazzi A tempo pieno Ti costano niente Traducimi tutto Provaci Ma vuoi che non porti a casa Altri 10 mila dollari al mese Provaci Siamo i primi promotori Noi di questa cosa Quindi sta lasciando sul tavolo Un sacco di soldi Ma perché c'hanno sempre La bip bip di legno Allora qua E no la gente Se vede i contenuti in altre lingue Pensa che io voglio fare soldi E no Noi anni che promuoviamo questa roba Diciamo a tutti Eppure Tra l'altro Do un consiglio È molto importante Ci sono ragazzi Che vanno a prendere contenuti Di canali Inglesi Americani Ok Contattano queste aziende E gli chiedono Posso prendere il tuo contenuto E portarlo in Italia? Porto proprio il tuo contenuto E lo porto in Italia Lo traduco Lo sistemo Faccio degli editing E ti do Tot percentuale Sai quanti riescono a farlo Questa cosa qua E tu non devi produrre contenuti Cioè hai il contenuto che funziona Lo porti in Italia perché non c'è E fai visualizzazioni E puoi scegliere Se fare una partnership con loro Se ti lascia tutto la revenue Se fai una collaborazione Quindi differenziare Su più piattaforme Sì Usare il tuo brand finché c'è Finché c'è Finché c'è E continuare a portare valore al tuo brand Perché se no se te lo fai solamente così Magari sono X E creare dei prodotti Esatto E creare dei prodotti da vendere Servizi Che fa leva sulle tue competenze In modo trasversale Io in uno dei video precedenti Facevo l'esempio Di ragazzi Che secondo me Con l'esperienza che hanno fatto Nel portare la propria faccia su YouTube A livelli così alti Con facilità venderebbero le aziende A prezzi Altissimi Elevati La consulenza per far diventare le aziende Delle realtà in grado di vendere Tramite YouTube e qualsiasi social Dall'alto ci hanno detto prima Seguire i trend per fare watch time Però Amin Qual è il problema Di una grande personalità Che a un certo punto scopre Che è andato fuori trend lui completamente Cioè A un certo punto si rende conto Che il calo è continuo E dura da due anni E sono passato da 100 a 15 Quindi non può essere algoritmo È progressivo La curva fa così Come fa una persona così A andare contro i trend Andare contro tutto quello che ha il suo essere Devi cambiare Devi trovare Devi trovare il nuovo contenuto da fare Ma il problema è che c'è tanta gente Che non cambierà mai il proprio contenuto Proprio per orgoglio Ed è uno dei problemi degli influencer Poco flessibili al cambiamento Internazionalizzare Seguire i trend Alzare la qualità E come fa a seguire un trend? Basta analizzare il mercato comunque Capire cosa va In questo momento Cosa non va Più semplicemente ancora Ti guardi nei tuoi consigliati E sicuramente ti vengono idee Non sarà facile per nessuno Se voi concordate Che il contenuto di valore Funziona sempre? Assolutamente sì Cos'è un contenuto di valore? Signora Min Il contenuto di valore È molto semplice È un contenuto che È intrattenente Per il tipo di pubblico Che tu stai andando ad attaccare Deve essere un contenuto di qualità Ma per qualità Non si intende 4K, 8K Quello che è Per qualità Si intende Quello che il tuo pubblico Vuole vedere Faccio un esempio pratico MrBeast In questo momento MrBeast ha cambiato Sta cambiando comunque La tipologia di contenuti Che lui sta facendo Ha creato anche delle serie Che potrebbero essere Dalla barca Da un dollaro Alla barca Alla nave Da 100.000 dollari A un milione Poi lui fa Sempre cifre folli Quello è proprio Una tipologia di contenuto Che lui ha replicato Più volte Perché l'ha provata E ha visto Che comunque È una cosa che piaceva E la volevano E ha continuato a replicarle Se voi andate a vedere I primi video Ma proprio Per visualizzazioni Al mondo Due di questi Sono proprio Di questa serie qua Poi In più Sta facendo Nuovi contenuti Che sono Più Di sfida Quindi Porta delle persone A cui fa fare Delle sfide E lì Possono vincere Possono perdere Sta alzando Sta alzando l'asticella Nonostante Sta alzando l'asticella Sta alzando l'asticella Drasticamente Questo l'ha portato anche A focalizzarsi di meno Sul secondo canale Che è quello Gaming Poi l'abbiamo detto Anche in altri video Logan Paul e chi è sai Fanno le bibite Fanno il Vresti Fanno il Pugilato Bisogna differenziarsi Andare su più piattaforme E non disegnare Anche in media tradizionali Perché hanno ancora Tanto successo Ok Conclusione Per tutti Consiglio che possiamo andare noi Valutate bene il mercato Studiatelo bene Capite i contenuti Produrre Alzate la qualità E valutate Aprire anche più canali Più canali In più lingue Insegui trend Su più canali O in un altro mercato In un'altra lingua Grazie per l'attenzione Se saremo ancora aperti Settimana prossima Probabilmente sì Ci vediamo per il prossimo video Ci vediamo nella prossima puntata Buona giornata Ciao a tutti